un minuto con padre pio dei luoghi di san giovanni rotondo del convento dei frati minori cappuccini luoghi di padre pio ci troviamo nella stanza delle lettere cosiddette delle lettere perché c'è una parete dove sono incastonate le lettere che ha ricevuto padre pio da tutto il mondo in un anno particolare tra il 65 66 oggi sono qui come un pellegrino che visita il convento perché la storia di giuseppe è simile a quella di tanti pellegrini che vengono qui a visitare i luoghi di padre pio molti a volte vengono solo per curiosità molti invece con intensa e devota preghiera altri per chiedere effettivamente qualcosa padre pio chiedere attraverso la sua intercessione grazie affidare a padre pio tutte le paure timori ecco come è successo per giuseppe maggio 2002 accompagnai mia moglie in un pellegrinaggio a san giovannino tondo mentre lei ecco si dedicava alla via crucis io scrive giuseppe molto scettico facevo il turista il turista in giro per il convento quindi dal piano terra attraverso la scalinata mi sono trovato all'inizio di un lungo corridoio in quel momento non c'era nessuno ero solo solo con mio figlio quindicenne dopo pochi passi ho cominciato a sentire un profumo un profumo molto forte e vario di fiori mi giravo intorno ma non vedevo fiori più camminavo più il profumo diventava sempre più intenso e forte alla fine di questo corridoio il profumo era diventato talmente forte intenso da prendermi allo stomaco in quel momento mi sono ritrovato proprio di fronte alla cella numero uno che aveva una parete in vetro ho dato un'occhiata all'interno e poi ho continuato a camminare voglio precisare che mio figlio non percepiva nessun profumo ero solo io che sentivo questo profumo forte ho continuato il giro premetto che io di padre pio conoscevo soltanto il nome qualche immagine a vista per caso forse due volte mi era capitata tra le mani il mio credo religioso è sempre stato orientato verso gesù cristo una madonna con scarsa attenzione proprio ai santi al ritorno da questo pellegrinaggio nel pullman ho sentito alcune persone parlare di questi profumi di padre pio di cui non sapevo nulla sono rimasto di sasso senza proferir parola l'unica persona alla quale ho parlato della mia esperienza è stata solo mia moglie a cui però imposto il silenzio nel 2011 è accaduto qualcosa di doloroso per giuseppe scrive sono stato colpito da un infarto molto serio ricoverato ad alessandria per un intervento delicatissimo a cuore aperto la notte prima dell'operazione dormivo profondamente ad un certo punto mi sono visto in una stanza tutta bianca seduto sul letto mentre un medico mi diceva di aprire la bocca per togliermi il tubo ai piedi del letto due infermieri l'intervento molto rischioso era andato bene la scena era così reale che mi sono toccato il petto convinto di aver già subito l'intervento ma così non era poi ho continuato a dormire era un sogno giorno seguente sono stato effettivamente operato e ancora sotto l'effetto dell'anestesia pur vedendo ed ascoltando ogni cosa mi sono trovato in una stanza tutta bianca seduto sul letto mentre un medico mi diceva di aprire la bocca per togliermi il tubo ai piedi del letto due infermieri insomma la notte precedente avevo già visto tutti i particolari e soprattutto l'esito di questo intervento successivamente una nuova esperienza una notte d'estate di sei anni fa mentre dormivo mi sono sentito bussare con forza sulla mia spalla mi sono svegliato con un grande spavento ma non ho visto nessuno piccoli tanti episodi ma significativi per me come quello dell'anno scorso quando la notte del 23 settembre mi sono svegliato all'improvviso ed ho guardato l'ora della sveglia erano le 2 e 30 una coincidenza non lo so questa è la mia storia che mi ha portato a conoscere in maniera sempre più approfondita attraverso anche internet la rete il vostro canale la vita di padre pio di cui sono diventato molto devoto anche se so che egli vuole che io migliori ancora la mia fede grazie 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 grazie